L'oltre uscita. Quando esce la nuova stagione e chi sono i comici concorrenti del cast? Tutti i dettagli e la lista ufficiale e il comedy game di Amazon Prime, lol chi ride è fuori è stato un clamoroso successo per la piattaforma e sta per tornare a grande richiesta degli abbonati, scopriamo quando esce la stagione numero 3, la presunta data di uscita e chi saranno i nuovi concorrenti del cast. Leggi anche, Alberto Matano e Frank Matano sono parenti? Sono fratelli? Ecco finalmente tutta la verità lol chi ride è fuori, cosa è e come funziona? Ma come funziona lol? L'ultimo enorme successo di Amazon Prime è condotto da Fedez e Frank Matano? Dieci comici professionisti si sfidano a colpi di gag e battute e devono cercare di restare seri per sei ore consecutive. Chi vince, si aggiudica un super premio di 100.000 euro da devolvere a un ente benefico a sua scelta. I dieci comici entrano in scena e cercano di eliminare gli avversari a colpi di battute, attraverso i diversi stili comici a disposizione, stand-up, improvvisazione, commedia fisica. Fedez e Mara Mayonchi seguono tutto dalla control room per verificare l'andamento della gara. Alla prima risata di uno dei comici scatta il cartellino giallo di ammunizione. Alla seconda risata, scatta il cartellino rosso e quindi l'eliminazione del gioco. Il programma è prodotto da Endemol Shine Italy e si ispirra al format giapponese HITOS HIMATSUMOTO. LOL 3. Quando esce la nuova stagione? Ma quando è prevista l'uscita della nuova stagione di LOL su Amazon Prime? L'attesa pare che stia per concludersi. Dopo mesi d'attesa, infatti, stanno per avere inizio le nuove riprese. Considerando questo indizio, la data di uscita di LOL 3 dovrebbe essere fissata nel 2023. LOL 3 Cast. Chi saranno i nuovi comici concorrenti? Il cast di LOL 3 è stato confermato e reso pubblico dalla piattaforma. Ecco chi sono i comici concorrenti della nuova stagione del programma di Amazon Prime. Nino Frassica Cristiano Caccamo Marina Massironi Paolo Ceboli Luca Bizza Paolo Chessisoglu Fabio Balsamo Herbert Ballerina Marta Filippi Brenda Lodigiani LOL Vincitori. Chi ha vinto le prime due stagioni? La prima stagione di LOL è stata vinta da Ciro Priello, del gruppo comico 3 Jekyll, mentre nella seconda stagione ha avuto la meglio maccio capatonda. E voi seguirete le nuove puntate? Restate aggiornati con per scoprire in anteprima tutte le news in merito a quando esce LOL 3, alla data d'uscita ufficiale e ai concorrenti del cast.